Siamo con Margherita Torrazzo e Giorgia Abbi, allora Margherita non si è giocato questo weekend per il maltempo, diciamo un po' un tuo giudizio su questo campionato sinobal. Allora la 18 sta andando bene, comunque tutte le partite che abbiamo giocato ne abbiamo giocati bene, non era iniziato benissimo perché con la partita contro Normak di Serie D stavamo vincendo 2-0, quindi pensavamo se una partita abbastanza tranquilla invece l'abbiamo sottovalutata e i parziali, poi sono stati 3-2 per la Normak, però poi ci siamo riprese e anche la D sta andando abbastanza bene, abbiamo giocato contro Alvaro che ci sembrava una squadra abbastanza difficile con cui vincere perché erano tutte più grandi, quindi un pochino più di testa, però abbiamo vinto 3-2 e niente sta andando abbastanza bene, sono soddisfatta di quello che stiamo facendo come squadra. Giorgia invece sulla sfida contro Don Bosco, un tuo giudizio? Allora sicuramente la squadra forte, essendo prima in classifica, però essendo te appunto, come ha detto Margherita, il campionato sta andando abbastanza bene, secondo me possiamo fare delle belle cose, nonostante siano tutte più grandi appunto, solo lavorare di testa e poi secondo me a livello tecnico non abbiamo nulla di meno, quindi nulla da temere, solamente appunto lavorare sulla testa, essendo che siamo una squadra abbastanza giovane, una tra le più giovani in realtà, quindi niente, io la vedo bene come partita, speriamo.